Sì, mi fa piacere intanto che viene detto che è un'altra protagonista della storia, ho deciso di girare in Sardegna per una scelta istintiva all'inizio e poi ho fatto un percorso lungo di due anni, durante la scrittura facevo dei viaggi per conoscere questo mondo e ho trovato tutta una serie di risposte. Intanto in Sardegna c'è una tradizione legata ai figli dell'anima, che è una tradizione che probabilmente esisteva anche in altri luoghi dell'Italia, ma in Sardegna ha questo nome bellissimo che è figli dell'anima, ossia delle famiglie povere decidevano di affidare uno dei loro figli a una famiglia ricca e quindi ci stavano dei bambini che avevano di fatto due madri e due famiglie. Poi al di là di quello la Sardegna ha dei paesaggi molto forti, prepotenti quasi, e questa forza e questa prepotenza mi ricordava la forza delle mamme, di queste madri del film. E in ultimo ci sta una questione identitaria che mi interessa molto, ossia la Sardegna ha da una parte un'identità fortissima e dall'altra è un'isola e quindi si pone il problema del confronto con tutto ciò che è nuovo, che è esterno. E questa identità da una parte è molto forte, dall'altra una ricerca di identità continua era un altro aspetto che secondo me ha specchio con i miei personaggi, che hanno dei caratteri forti ma sono in evoluzione, in ricerca di una propria identità, soprattutto la bambina. Andiamo, perché amo che spari in fretta per favore, aiuto! Lavori qua adesso? Faccio qualche giornata per Savino. Io non le voglio vendere i cavalini miei. Avevi detto che partivi? Perché non sei più gentile con me? Avevi promesso che eri sempre gentile con me. Sono gentile. Forse ho trovato un modo per tenere la casa. Ascolta, se si muove la notte lo sento. Da nove anni, ogni colpo di tossa, ogni febbre, ogni goccia di sudore, conosco di mia figlia. Lei sa sempre che io ci sono. Basta che sei volta io ci sono. Di questo ho bisogno. Questo la cura. Ti prego. Il canale, quest'amore non si tocca, è particolare in uno dei momenti principali del film. C'era la musica Italo-Disco anche importante durante la tua vita? Sì, diciamo che mia mamma, quando ero piccola, a volte in casa metteva questa cassetta dove c'erano molte canzoni di cantautori italiani di un certo periodo e quindi sicuramente sono cresciuta con un ricordo di musica cantautoriale italiana e che mi sono portata dietro. Io amo sentirla e quindi volevo mettere nel film un brano. E per un periodo, prima delle riprese del film, guidavo la macchina e sentivo alla radio una radio che manda questo tipo di musica e rischiando di fare degli incidenti prendevo il telefono e registravo dei brani che mettevano e mi piacevano. Finché è arrivato questo amore non si tocca è rimasto nel mio cuore, in testa e ho deciso che era il brano del film. Finché è arrivato questo amore.